ho avuto la pessima trovata la pessima idea di comprare un cellulare nuovo che non avesse la videocamera interna non me ne ero proprio accorto quindi adesso che arriva l'inverno che è arrivato l'inverno dobbiamo rassegnarci ad avere un pochino di illuminazione un po così ho provato anche in altri modi ho provato a prendere addirittura una lampadinuccia di quelle da meccanico però sinceramente fa troppo riverbero e quindi non so quanto possa non so quanto possa migliorare non so quanto possa si questa a model riposseduta questa model esorcista vabbè forse lo posso mette così è un pochino meglio barone vassallo 26 novembre 2022 come vi dicevo un macello con questa luce vabbè però diciamo accontentiamoci via allora mi hanno bannato di nuovo altri 30 giorni su facebook perché ho fatto vedere la copertina del libro il grande inganno si sono incazzati come la biscia manco mi hanno fatto aprir parola 30 giorni di ban via e va bene va bene vuol dire che quello che è stato detto era più che giusto più che giusto allora dunque riflettiamo un attimo su una cosa ieri ho fatto un video pesante un video pesante lo ammetto pesante perché si parlava delle delle morti improvvise però non vi ho portato le foto e le immagini ieri sera torno a casa e naturalmente a tarda tarda notte mi metto a vedere i messaggi che durante la giornata molti amici mi inviano su whatsapp per questo io li ringrazio con notizie con fatti con eventi e inizio a vedere per caso un video molto molto importante un video che si trova su rumble e che non è neanche in italiano guardate si intitola dai suddelli guardate vediamo se riesco a farvelo vedere ecco forse così si intitola dai suddelli ed è un film veramente veramente bello nonostante nonostante sia aspettate ecco dai suddelli guardatelo bene perché vi consiglio di andarlo a vedere dura molto è uno di quei video molto lunghi in americano ed è vi assicuro di una di un interesse veramente fuori dal normale vengono intervistati e impresari di pompe funebri funebri pardon vengono intervistati imbalsamatori di persone e tutte queste persone fanno notare addirittura c'è un impresario di pompe funebri che dice avevo commissionato a un mio dipendente di imbalsamare il corpo di un uomo morto a 40 anni come volevano i suoi familiari mi torna il mio dipendente che mi dice guarda che la macchina per iniettare dentro al corpo il liquido che servirà per seccare le parti che potrebbero andare in decomposizione e quindi conservare il corpo integro negli anni la macchina che inietta dalla carotide fino a tutto il corpo praticamente una macchina che manda in circolo tutto questo questo liquido che serve per l'imbalsamazione non riesce a mandare dentro il liquido da questo deceduto qui e lui pensa dice magari la macchina è vecchia se sarà consumata per quello non funziona bene poi invece vanno a prendere un'altra macchina provano e la stessa cosa con l'altra macchina che cos'era era tutto il corpo di questa persona deceduta che dovevano imbalsamare che era pieno di coaguli di sangue c'è tutto il video in cui poi dopo aprono questo cadavere e ne fanno vedere le parti interne non è naturalmente un video per i deboli di cuore però mette veramente soggezione e sembra veramente fatto bene sembra veramente fatto in maniera con tutti i crismi allora dato che ieri ho fatto quella puntata un po' pesante voglio farvi vedere un pochino di notizie ischemia celebrale mentre a casa il solito di Medi si spegne ad 8 anni è morto improvvisamente a 20 anni il campione del mondo Junior S un altro caso di Sudden Dead nello sport è morto improvvisamente a soli 20 anni Jan Ford un ragazzo sanissimo ed atletico già campione del mondo questa una notizia di ieri scusate ma questo maledetto cellulare è proprio un qualcosa di terribile per riportare le notizie però anche meglio perché almeno ci separa un pochino dalla censura è successo di nuovo atterraggio di emergenza di un volo per Parigi muore per malore improvviso un membro dell'equipaggio è il secondo caso in poche ore questo è 24 novembre 2022 guardate se riesco a farlo vedere malori improvvisi e decessi nelle ultime ore un giovane mentre fa jogging malore al bar caccia di cinghiale alla guida di un furgone una maestra 34 anni e un artista malori improvvisi e decessi nelle ultime ore questa è la notizia di E20 avversi e questa è la notizia di ieri vediamo se riesco andate a vederle torno a ripetere voi andate sempre a vederle le notizie che io vi riporto è meglio per tutti colto da un malore si schianta nel parcheggio muore un 57enne morto poco dopo l'arrivo all'ospedale PV 57 anni colpito da un malore mentre era in auto nel parcheggio dell'Eurospar tra lo Scalo Nuovo e Via delle Ferriere a Udine malore durante la vacanza in Egitto chef Maurizio muore a 61 anni era Maurizio Baratto ha perso la vita sulla spiaggia di un villaggio turistico a Marsalam residente a Treviso era capo della società Coco Scattering e lascia un figlio di quattro fratelli anche questa di ieri malore fatale noto musicista trovato morto in casa dalla figlia è morto nel bagno della sua abitazione mentre si preparava per andare a un controllo periodico per una patologia al cuore muore prematuramente Emanuele Gabriele infermiere e consigliere comunale anni 55 queste sono tutte notizie tra ieri e l'altro ieri attenzione stamane intorno alle 8 e mezza lo stimato professionista di Sersale è stato colto da un malore prestava assistenza occupandosi di assistenza domiciliare a nulla sono valsi i soccorsi per un infarto non ha dato la seconda possibilità tra la cupa di isperazione di colleghi attoniti e sotto shock per l'inatteso e infausto accadimento una fitta al petto muore dopo mezz'ora è arrivato all'ospedale Damiano De Vitis è stato sottoposto ai primi controlli medici in pronto soccorso sono intervenuti anche i cardiologi dopo mezz'ora Damiano si è spento tra le braccia dei medici increduli per la tragedia che si è consumata in corsia era spinto in ospedale per una fitta a petto l'infarto è stato fulminante non ha consentito agli specialisti di avviare alcun intervento che potesse salvare la vita del 54enne guardate è una strage continua andate a vederle per carità tante ce ne sono state anche in passato ma adesso non sono tante sono migliaia migliaia centinaia di migliaia come aprite il cordoglio della casatese per la morte improvvisa di Fabio Galbusera questo anche di ieri ma loro in casa muore una donna di 38 anni ragazzi non ve le continuo a leggere ve le faccio vedere nuovi allora torno a ripetere ragazzi andate a vedervi questo video andate a vedervi questo video guardate se ero riuscito su Barone Vassallo Pierpaolo Lorica su Rumble l'avrei caricato io non ci sono riuscito vi consiglio di andarlo a vedere perché vi apre un mondo e vi mette paura ma paura quella vera non quella americana quelle americanate lì ragazzi buona domenica a tutti e ci vediamo domani ciao a tutti